E' durato poco più di tre ore l'incontro in videoconferenza tra il Presidente della Regione Puglia e Michele Emiliano, gli assessori e i sindacati sul tema delle riaperture delle scuole il 7 gennaio. Le rappresentanze sindacali all'unanimità hanno chiesto al Presidente di rinviare l'avvio delle lezioni in presenza di una settimana o almeno di 15 giorni e di stabilire per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado la didattica a distanza. Il Presidente si riserva dal canto suo, alla luce di queste richieste, di decidere anche sulla base dei segnali che verranno dal Governo nazionale nelle prossime ore. Ringraziamo i sindacati e l'ufficio scolastico regionale, dichiarano al termine della riunione il Presidente e i componenti della Giunta, per il clima costruttivo in cui hanno affrontato i temi connessi alla ripresa a gennaio delle attività didattiche per il primo e secondo ciclo. Siamo certi che le istituzioni scolastiche, insieme con la Regione, nell'ambito delle reciproche competenze, continueranno a dimostrare l'ottima capacità organizzativa di cui hanno già dato prova negli scorsi mesi. Si lavora senza interruzione anche di domenica per trovare le soluzioni giuste, conclude Emiliano.